Comunicazione e marketing Valorizzare il prodotto locale come espressione dell'economia e del territorio è stato questo il tema assegnato agli studenti marchigiani per il primo concorso denominato Idee Digitali e organizzato da Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino con il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche tre sono state le scuole coinvolte l'Istituto Podeschi Calzecchi Onesti di Ancona il Liceo Artissico Mannucci di Fabriano e l'Istituto Olivetti del Polo 3 di Fano tutte scuole ad indirizzo grafico che martedì 17 dicembre si sono ritrovate all'auditorium di Confartigianato nella cittadorica per la presentazione dei lavori e le premiazioni i progetti realizzati dagli studenti sono stati valutati da una commissione tecnica composta da quattro imprenditori ed esperti del settore che hanno scelto gli elaborati più aderenti al tema assegnato quindi diciamo vedere attraverso i loro occhi come le nostre attività vengono immaginate è estremamente importante perché poi questi ragazzi si troveranno a dover lavorare magari per alcune di queste attività e quindi anche per le attività stesse diventa fondamentale essere pronte e preparate ad interagire con questi ragazzi che sicuramente avranno una mentalità delle idee e sicuramente un approccio al lavoro completamente differente da quello che chiaramente hanno artigiani che ormai sono nell'ambito lavoratori di diversi anni ma che magari essendo già preparati a quello che si troveranno di fronte potranno sfruttare al meglio ognuno i punti di forza dell'altro Confartigianato anche con questa iniziativa porta dunque a compimento la sua missione quella di favorire e sviluppare le competenze professionali con cui i ragazzi si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro e in particolare in quelle dell'artigianato digitale questa innovazione ha portato una brusca accelerazione e quindi il compito di Confartigianato è quello di favorire occasioni come queste dove il mondo dell'impresa, delle imprese nel settore della comunicazione della grafica, dell'ICT e dell'innovazione si interfacciano con i giovani facendo comprendere questo mondo e aiutando sia il corpo docente, le scuole e i giovani a comprendere le nuove dinamiche economiche per andare avanti insieme e costruire e aiutare i giovani a entrare in futuro nel mondo del lavoro